Signor Bonura, ma che ha combinato? Signora, non si preoccupi, in un paio di giorni richiudo tutto con una bella finestrella. E faccia richiudere immediatamente. Si, d'estate in casa soffoco e necessito un pochettino di aria, mi capi? Ma lei non può aprire una finestra sul mio terrazzo, la legge non lo permette. La legge? Vabbè, la legge? Che c'entra la legge con una cortesia fra buoni vicini? E chiamo i vigili urbani subito. Perché lei tutte cose in regola c'ha? Un cretino che vuole aprirsi una finestra abusiva. E questa volta non posso risolverglielo io il problema. Guardi che non era una battuta. Mio padre tante cose mi insegnò. Ma essere speratoso? No. Mi ha capito che non c'era portato. Stanno per arrivare i vigili urbani. Chiuda a chiave la sua stanza. Non vorrei che qualche altro cretino l'aprisse per sbaglio. Ecco.